Bella a tutti mattacchioni e bentornati sul canale, manca una settimana esatta all'inizio della nuova season, prima dell'ultimo DLC di Destiny 2 che porrà fine alla saga di luce e oscurità, ovvero The Final Shape. Ma non è questo il argomento che voglio trattare in questo video, ma bensì la frustrazione che ho trovato nel ricevere il loot nei contenuti a Master. Mi spiego meglio. Stavo facendo a Master la segreta spetti dal profondo, ho giocato di circa un'ora e in un'ora ho ricevuto tre armature rullate malissimo ragazzi, una con 59 di statistiche, una 60 e una 61, ma ero con la strega, cercavo almeno qualcosa, un 20 in resilienza o recupero o disciplina, non ho trovato niente ragazzi, niente. Il massimo che facevo su una statistica era 8, proprio per stare alla larga 9. È assurdo ragazzi, è assurdo perché in un'ora non posso trovare questo tipo di loot in un contenuto a Master, quando in circa un minuto posso andare all'elm e concentrarmi due frammenti, scusate, due engrammi della stagione e posso trovare un'armatura che mi dà la possibilità di avere un triplo cento. Ragazzi, è assurda questa cosa, è proprio assurda. Ok, io capisco che l'armatura del contenuto a Master è un'armatura di artificio e quindi ha uno slot in più che dà un più tre, ma non lo vedo né utile né appagante questa cosa. Quando effettivamente faccio in un minuto mi posso rollare almeno tutto quanto il set di armature e posso tranquillamente avere una doppia cento. Cioè, questa cosa con me la Vangie deve cambiare. Ok, io ci ho messo un'ora, forse ci ho messo anche troppo. Adesso io ragazzi non sono un espertissimo nei contenuti a Master, però comunque sia è una cosa che secondo me non è giusta nei confronti di chi fa appunto quel contenuto a Master per cercare l'armatura dell'artificio e si trova un'armatura rollata di merda proprio e la deve smantellare quindi tutto il tempo che gli ha dedicato per fare quella run va buttato nel cesso praticamente. Quindi spero, spero che nella prossima season o almeno in The Final Shape cambino qualcosa, perché a sto punto io quel tempo per fare il contenuto a Master lo uso per fare un GM che ci vuole relativamente meno, 20 minuti, mezz'ora massimo, però è molto più appagante. È molto molto più appagante, con il fatto che tu prendi gli esotici, i frammenti ascendenti, se sei nella settimana giusta puoi anche prendere la doppia arma, la doppia armatura. Cioè ragazzi, quel contenuto lì a sto punto è molto più appagante. Detto questo ragazzi mi sono voluto un po' sfugare dato che questo weekend mi è successo questa cosa. Volevo parlarne con voi, infatti sono curioso di sapere nei commenti cosa ne pensate. Quindi niente ragazzi, io vi invito sempre a iscrivervi al canale, mettere un like al video se vi piace e di seguirmi se ancora non l'avete fatto. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao mattacchioni!